La coca zero che contiene aspartame è cancerogena? Ciao e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. L'aspartame è il dolcificante di sintesi più usato al mondo anche nella coca zero e in tante altre bevande. È 200 volte più dolce dello zucchero quindi se ne usa pochissimo e in pratica non apporta calorie. È stato classificato come cancerogeno? Se avete problemi a seguire un video per più di 90 secondi vi do la risposta breve. No e se avete letto da qualche parte su qualche sito di notizie la notizia che l'aspartame è stato dichiarato cancerogeno beh non è così e cambiate sito di notizie ecco adesso potete andare. Per coloro che sono rimasti invece che non si accontentano di risposte semplici a questioni complesse vi chiedo un po' di attenzione perché dobbiamo affrontare tutta una serie di questioni abbastanza complicate e richiedo la vostra attenzione perché è necessaria se vogliamo navigare nella giungla della disinformazione. Erano anni che volevo fare un video per spiegarle il significato della parola cancerogeno come funziona la classificazione della IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro che è un braccio dell'OMS e perché altre agenzie come l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, oppure la GECFA che è il comitato di esperti sugli additivi alimentari sempre dell'OMS e della FAO a volte dicono cose che apparentemente sono in contraddizione con quello che dice la IARC. Poi come sapete mi sono ammalato per ironia della sorte proprio di tumore e il video non l'ho più fatto però oggi c'è l'occasione per riparlarne perché proprio oggi la IARC e insieme all'OMS, la GECFA e così via ha classificato l'aspartame come una sostanza possibilmente cancerogena. Avete sicuramente letto la notizia. La IARC ha varie liste, una di queste è la lista delle sostanze possibilmente cancerogene ma ce ne sono altre, c'è la lista delle sostanze probabilmente cancerogene e c'è la lista delle sostanze cancerogene. Possibilmente e probabilmente sono due avverbi che nel linguaggio comune di solito sono intercambiabili ma in questo caso non lo sono e non è una finezza linguistica, è proprio una questione di sostanza. Quello che vi racconto è un riassunto molto stringato di quello che ho scritto in un capitolo dell'ultimo libro che ho scritto che si chiama Fa bene o fa male per Mondadori dove affronto proprio il problema del rapporto tra l'alimentazione, il cancro e tutte le varie classificazioni della IARC. Prima di continuare un disclaimer, a me questa roba non piace, non la compro, non la bevo, neanche quella con lo zucchero e in particolare tutti i vari dolcificanti, non solo l'aspartame ma ce ne sono altri anche in altri prodotti la cesulfame K, la saccarina, il ciclammato, gli steviosidi della stevia lasciano un terribile sapore metallico in bocca come so che succede anche ad altre persone e quindi queste cose non mi piacciono. Quindi l'ho comprata solo per fare il video e dopo il video la sbatto via. Poi non è il mio mestiere dire a voi che cosa dovete mangiare, che cosa dovete bere, che cosa non dovete mangiare, che cosa non dovete bere, letteralmente non me ne frega niente. Se la bevete non me ne frega niente, se non la bevete non me ne frega niente alla stessa maniera. Io vi spiego le cose come stanno, poi sta a voi decidere cosa fare. Vi dico però quello che la ricerca scientifica in generale ha mostrato su questi dolcificanti e cioè che le speranze iniziali che potessero essere un valido aiuto contro l'obesità e aiutare quindi le persone in sovrappeso o obese a perdere di peso, beh quelle speranze si sono dimostrate infondate. Molti studi hanno rilevato che nonostante queste bevande siano davvero a zero calorie praticamente e quindi chi le beve invece delle corrispettive bevande con gli zuccheri dentro assume effettivamente meno calorie, beh quello che salta fuori dagli studi è che queste persone poi eccedono mangiando di più altre cose. È probabilmente un effetto psicologico, quindi di fatto non pare aiutino a perdere peso. In più probabilmente gli edulcoranti e i dolcificanti perpetuano o addirittura aumentano la nostra voglia di dolce e ci sono alcuni studi recenti, per carità vanno confermati, però che mostrano che potrebbero anche interferire i dolcificanti con il nostro microbiota, cioè i nostri batteri che abbiamo nell'intestino. Di sicuro ora pare chiaro che non esiste un motivo per consigliare al grande pubblico, alla popolazione, il consumo di questi prodotti invece dei prodotti corrispettivi con gli zuccheri. La cosa invece che dovremmo fare tutti è ridurre il consumo di zuccheri libri tutti e qui sul canale trovate un vecchio video sul tema. Allora, che cosa vuol dire che una sostanza, un agente, un alimento, una esposizione professionale è cancerogena? Beh, sembra semplice no? Qualche cosa è cancerogena se causa il cancro. In realtà no, le cose sono più complicate e il problema sta nel verbo causa, perché il cancro non è una malattia come le altre. In realtà qui dovremmo parlare di cancro al plurale perché sono tante malattie con cause diverse, ma vabbè, trascuriamo questa questione. Se prendiamo l'influenza la causa è chiara al 100%, abbiamo preso il virus dell'influenza. Se abbiamo la salmonellosi, anche qui la causa è chiara al 100%, abbiamo preso, siamo stati infettati dal batterio della salmonella e così per moltissime altre malattie. Ma per il cancro qual è la causa? Sapete tutti che il fumo, anche quello passivo, l'alcol contenuto nelle bevande alcoliche, le carni trasformate come salumi, salsicce, gustere e così via, sono stati tutti classificati come cancerogeni. Nell'interpretazione di una parte del pubblico però, cancerogeno viene percepito come qualche cosa che sicuramente ti farà venire il cancro se fumi, se bevi degli alcolici, se mangi pane e salame e così via. Sicuramente. Però non è così, è scientificamente sbagliato affermare che se mangio salumi, se bevo birra, mi verrà sicuramente il cancro. Questo gli scienziati lo sanno benissimo e infatti la definizione di cancerogeno è più sottile e dice che qualche cosa è cancerogeno se in certe dosi e per un certo periodo di tempo la sua assunzione, la sua esposizione, aumenta il rischio, la probabilità quindi di sviluppare un certo tipo di tumore durante l'intera vita. Quindi aumenta la probabilità, non si parla più di certezze di 100%, ma di probabilità. Parlare di cancro ci obbliga a ragionare in termini di rischi, di probabilità e noi esseri umani non siamo affatto bravi a maneggiare i numeri e la probabilità, anzi molto spesso li rifiutiamo. Avrete sicuramente sentito qualcuno dire che ah mio nonno ha fumato fino a 90 anni e non ha avuto mai un cancro come per, diciamo, smentire l'idea che il fumo sia cancerogeno. Ovviamente il caso del nonno non smentisce proprio nulla, così come è sempre possibile lanciare una moneta per dieci volte e ottenere dieci volte testa. Tuttavia è sintomatico di come non sappiamo maneggiare la probabilità e preferiamo le certezze per cui pensiamo che se qualche cosa è cancerogeno allora sicuramente ti causerà il cancro. Un atteggiamento opposto ma altrettanto sbagliato e che ha la stessa origine è quello di pensare che se noi evitiamo, se noi non mangiamo, se noi non beviamo un alimento cancerogeno allora sicuramente siamo al riparo dallo sviluppo di quel tumore. Purtroppo non è così e statisticamente vi potrebbe venire un tumore al polmone anche se non avete mai fumato e vivete in alta montagna e respirate solo aria pulita. Così come vi può venire, e statisticamente succede, un tumore al colon retto anche se non avete mai mangiato salumi o carne in vita vostra e siete di stretta osservanza vegana. Ma veniamo alla classificazione della IARC che negli anni ha causato tanta confusione e tante perplessità. Allora, la IARC ha varie liste, come dicevo. La classe 1, come si dice, è quella delle sostanze degli agenti cancerogeni. La lista 2A è quella degli agenti probabilmente cancerogeni. La lista 2B, non so perché non sono passati dal 2 al 3, ma vabbè. 2B è la lista dei possibilmente cancerogeni, quella dove hanno inserito l'aspartame dove ci troviamo altre cose come poi vedremo, poi hanno la lista 3 delle sostanze non classificabili come cancerogene. La cosa fondamentale da capire riguardo a questa classificazione è che la IARC non classifica gli agenti in base a quanto sono cancerogene, a quanto aumenta il proprio rischio di sviluppare un certo tipo di tumore se siamo in contatto con gli agenti. No! Li classifica solo in base a quanto noi, la IARC, ma insomma la comunità scientifica, è incerta sul fatto che una determinata sostanza sia effettivamente cancerogena. Lo dico diversamente. Un agente, una sostanza, o è cancerogena o non lo è. O aumenta il rischio di ammalarsi di cancro, oppure no. Domani pioverà o non pioverà. Noi però non sappiamo con sicurezza se domani pioverà o meno, no? Le previsioni del tempo non sono mai certe al 100%, e quindi esprimiamo la nostra incertezza su quello che succederà domani con una probabilità. È una misura della nostra ignoranza di quello che può succedere. Quindi se le previsioni del tempo vi dicono che nella vostra regione fra una settimana, fra tre giorni, non so, c'è il 40% di probabilità che piova, quel 40% è una misura della nostra incertezza se effettivamente pioverà. Le classi della IARC esprimono la nostra incertezza su quanto siamo sicuri che effettivamente quegli agenti siano cancerogeni. Se pioverà domani può essere una pioggerellina oppure un temporale fortissimo, ma in entrambi i casi la IARC le classificherebbe nella stessa classe. Altra cosa importante, la IARC non effettua degli studi sperimentali, la IARC, così come altre agenzie internazionali, passa in rassegna le centinaia e a volte migliaia di studi fatti da migliaia di ricercatori indipendenti in giro per il mondo e cerca di fare una sorta di riassunto. Ma veniamo alle varie classi. Classe 1, allora questa è la classe dei cancerogeni, è la classe degli agenti la cui cancerogenicità è stata dimostrata senza ombra di dubbio sia negli animali sia nell'uomo. A oggi sono 126 e ci sono i salumi e gli insaccati come abbiamo visto prima, l'alcol delle bevande alcoliche, il fumo passivo attivo, ma c'è anche l'esposizione alla luce solare, i raggi ultravioletti, per cui se state al sole, al mare, mettetevi sta crema solare e non badate a quei cialtroni, anche medici, a volte che dicono che se vi mettete la crema solare non sviluppate la vitamina D. Sono cazzate, smettete di seguirli. L'arsenico è in classe 1, i virus dell'epatite B e C sono in classe 1, i lettini abbronzanti, le noci di areca, la polvere di legno, il pesce sottosale alla cinese, alcuni tipi di terapie ormonali per la menopausa, la professione dello spazzacamino e così via. Se volete trovate l'elenco anche solo su Wikipedia, se non volete andare sul sito della IARC. Sono tutti nella stessa classe perché sono tutti agenti, quindi sostanze, professioni, esposizioni ambientali, per cui noi siamo sicuri che aumentino il rischio di sviluppare un certo tumore. La IARC, come vi ho detto, non classifica questi agenti in base a quanto sono cancerogeni e ne si occupa della stima del rischio per la popolazione in una esposizione, diciamo, normale nella vita reale. Lo ridico, l'unica cosa che accomuna tutti gli agenti nella classe 1 è la nostra certezza che effettivamente aumentino la probabilità, ma la IARC non si preoccupa di classificarli in quanto l'aumenti, non ho chi è più pericoloso di chi altro. La valutazione del rischio a cui siamo esposti se mangiamo qualche cosa, che è classificato come cancerogeno, se ci esponiamo a un agente, reagente ultraviolette e così via, non è fatta dalla IARC, ma da altre agenzie internazionali come l'EFSA oppure il GECFA, che dicevo prima, che valutano i rischi, ma poi ci veniamo. Per esempio, si stima che chi fuma 20 sigarette al giorno abbia un rischio aumentato, se è un uomo, del 2300% in più rispetto a chi non fuma e del 1300% in più, se è una donna, rispetto a chi non fuma. Quindi 2300 o 1300. Invece se qualcuno consuma 50 grammi di salumi al giorno ha un rischio aumentato di sviluppare nel corso di tutta la sua vita, fino a 80 anni, il tumore al colon retto aumentato del 18% rispetto a chi non fa uso di salumi o carni trasformate, perché il rischio assoluto passa per un italiano da circa il 6%, se non assume nessun tipo di salume, a circa il 7%, tralascio qui i vari decimali, se consuma quella quantità giornaliera. Quindi dal 6% al 7%. Capite bene che un aumento del 2300% è molto diverso che un aumento del 18%, e questo lo dico non per minimizzare i rischi, ma per mettere i numeri e i rischi nel giusto contesto. Io per esempio personalmente da vari anni ho praticamente eliminato tutte le carni trasformate e tutti i salumi, tranne in casi particolari. Però di sicuro confonde il pubblico trovare nella stessa classe, la classe 1, sono agenti che hanno una potenza cancerogena molto diversa. A proposito, nella classe 1 non trovate lo zucchero bianco, non trovate la farina 00, non trovate il latte, nonostante ci sia qualcuno che insista nel dire che queste cose sono cancerogene. Ecco, no e fatevi un favore, smettete di seguire certa gente. Veniamo alla classe 2A, che è quella dei probabilmente cancerogeni. Sono in tutto oggi 95 agenti. La IARC classifica nella classe 2A quegli agenti che hanno mostrato con sicurezza di essere cancerogeni per gli animali, però le prove che siano cancerogeni anche sull'uomo sono limitate, cioè quindi probabilmente magari ci sono degli studi che sono in contraddizione l'uno con l'altro, oppure hanno una forza statistica bassa. Insomma, non siamo molto sicuri, però c'è un sospetto. Qui dentro per esempio nella classe 2A c'è la carne rossa, che è la carne, vi ricordo, dei grandi mammiferi, come maiale, bovini, ovini, pecore, così... Anche se il maiale in gastronomia spesso è classificato come carne bianca, in realtà è carne rossa. Non c'è dentro in questa classifica, per esempio, la carne dei volatili. La carne di pollo non è classificata come cancerogena e né la carne del pesce che non è classificata come cancerogena. Quindi chi vi dice che la carne cancerogena sbaglia due volte, primo perché accomuna tutte le carni insieme e la seconda è perché sbaglia classe, perché la classe corretta è la 2A, non la 1. In questa classe ci sono altre cose, come per esempio i fumi della frittura, il consumare bevande molto calde, molto calde vuol dire temperature superiore ai 65 gradi, questo è classificato come un'azione probabilmente cancerogena. C'è il papillomavirus, ci sono alcuni additivi, per esempio i nitriti e i nitrati, ci sono alcuni farmaci come il cloranfenicolo o il cisplatino, c'è la professione di parrucchiere per esempio, o chi fa un lavoro con turni notturni, c'è il metileugenolo che è presente nelle piantine di basilico giovane per esempio, e così via. Capite bene che noi non possiamo fare esperimenti in cui prendiamo un gruppo di persone, li dividiamo in due e a metà di queste persone diamo volontariamente una sostanza per 10 anni da consumare tutti i giorni che sospettiamo essere cancerogena. Ovviamente non è etico e non si può fare. Quindi si cerca di raccogliere tutte le varie informazioni, gli studi in vitro, gli studi sugli animali, studi osservazionali, che però da soli non possono dimostrare che c'è un rapporto di causa-effetto, che una sostanza è effettivamente cancerogena. Nel libro spiego cosa sono tutti questi tipi di studi, gli studi osservazionali, gli studi randomizzati, controllati, eccetera eccetera, e che cosa possono dimostrare e che cosa no. Perché non basta che una sostanza sia cancerogena per un animale, perché lo sia anche nell'uomo. E sono note delle sostanze che sono cancerogene per alcuni specifici animali, ma non lo sono per l'uomo perché hanno un meccanismo biologico di sviluppo del tumore completamente diverso che magari è assente, totalmente assente, nell'uomo. E quindi la IARC e altre agenzie internazionali non si basano solamente sugli studi sugli animali, anche se sono fondamentali. E veniamo alla classe 2B, immediatamente sotto alla classe 2A per quel che riguarda la nostra incertezza. 2A probabili, 2B possibili. Vi ho detto che la classificazione della IARC ha in passato generato molta confusione e continuerà a farlo. Se nella classe 2A le prove di cancerogenicità sugli animali erano forti, sostanziali, e non tanto invece quelle sull'uomo, beh, nella classe 2B neanche le prove sugli animali sono solide. Ci sono limitate evidenze, come si dice, che possano essere cancerogeni queste agenti, ma non siamo molto sicuri neanche sugli animali. Per mettere le cose in prospettiva, che cosa c'è dentro questa classe? C'è tanta roba, ma per esempio c'è l'acido caffeico che è contenuto nel caffè. Oddio, io stamattina ho bevuto il caffè, devo smettere di farlo perché c'è dentro una sostanza che è possibilmente cancerogena. Beh, no, come vi ho detto, le prove sono limitate, e vuol dire che ci sono degli studi che anche sugli animali, magari ci sono vari studi in contraddizione l'uno con l'altro, il loro possibile effetto non è per nulla chiaro. Tra l'altro l'acido caffeico è presente in quantità ben maggiori, per esempio nella menta, nella salvia, e così via. Chissà, magari in futuro con nuovi studi, l'acido caffeico verrà spostato in una classe superiore, magari nella classe 2A, oppure invece verrà totalmente scagionato e verrà tolto dalla classe. Nel fattempo io mi bevo il caffè tranquillo. In questa classe a oggi ci sono 323 agenti, e per esempio ci sono le emissioni del cellulare che molti di voi in questo momento hanno in mano guardando il mio video. C'è il safrolo, per esempio, che è una sostanza che è presente nella noce moscata, nel pepe e in vari altri vegetali. C'è il fenobarbital, che è un farmaco barbiturico, c'è il piombo, il nickel, il cobalto, c'è l'ossido di titanio che è usato molto spesso in alcuni cosmetici e creme solari, ci sono l'estratto di cava, l'estratto di ginkgo biloba e l'estratto dalle foglie di aloe vera. L'aspartame è stato messo in questa classe, e questo perché prove certe sull'uomo non ce ne sono, ed è difficile anche immaginare un meccanismo biochimico per cui possa causare il cancro, perché è composto da... è una molecola molto semplice, è composta da due aminoacidi, la fenilalanina e l'acido aspartico, aminoacidi che troviamo in tutte le proteine che noi mangiamo giornalmente, e in più il metanolo. I due aminoacidi, come vi dicevo, ce li mangiamo tutti i giorni. Il metanolo è sì tossico, ma in grandi quantità, e lui di per sé non è cancerogeno. Si può trasformare in formaldeide, che è invece cancerogena, ma è in quantità estremamente ridotte, e per esempio noi consumando frutta, il nostro metabolismo trasforma la pectina della frutta, libera il metanolo, che può liberare in quantità maggiori che non quello che noi beviamo, che voi bevete, io non bevo, ma comunque che noi possiamo assumere con questo tipo di bevande, e in quantità molto maggiori, quindi teoricamente dovrebbe produrre della formaldeide. Quindi non pare ci siano dei meccanismi molecolari che rendano plausibile, che supportino quello che alcuni studi, ma non altri, hanno trovato. Anche alcuni studi epidemiologici sono in contraddizione e non hanno trovato granché. Come vi dicevo, i studi epidemiologici, i studi osservazionali non sono in grado, proprio per loro natura, di determinare un rapporto di causa ed effetto. Rimangono alcuni studi sugli animali, sui topi, i ratti, non tutti sono concordi, come dicevo, e in particolare ci sono studi che non hanno trovato niente e ci sono altri studi, in particolare quelli di una fondazione privata, Onlus, la fondazione Ramazzini, che ha trovato che a dosi molto elevate, secondo loro, secondo questi studi, si possono sviluppare dei tumori al fegato nei topi. Questi studi però sono stati anche fortemente criticati in letteratura come malfatti e come aventi conclusioni che non sono solide. Insomma, non c'è nulla di certo né per gli uomini né per gli animali. Infine c'è la classe 3, che a oggi contiene 500 agenti, a oggi non classificabili come cancerogeni, il che non vuol dire che sono stati classificati non cancerogeni, no? Che vi dicevo sulla confusione? Ma che le prove che siano cancerogeni non sono sufficienti né per gli esseri umani, non sono adeguate né per gli esseri umani né per gli animali. Quindi diciamo che per ora sono assolti per insufficienza di prove, ecco, anche se in realtà la soluzione per insufficienza di prove non c'è più nell'ordinamento italiano. E qui troviamo la caffeina, per esempio, l'antibiotico ampicillina, un altro edulcorante, il ciclamato, il diazepam, un farmaco, i campi elettrici, le luci a fluorescenza, il paracetamolo, per esempio. Una volta, e adesso non c'è più, ma una volta esisteva anche una classe 4 della IARC, che era la classe dei probabilmente non cancerogeni, vi faccio notare il probabilmente, adesso non c'è più, l'hanno eliminata, e l'unica sostanza che era dentro in questa classe è stata messa nella classe 3. Quindi diciamo che per la IARC qualsiasi sostanza, qualsiasi agente, è potenzialmente sospettato di sviluppare un cancro. Abbiamo quasi finito, ci manca la differenza tra rischio e pericolo. Lo so, è un video complicato. Rischio e pericolo sono due parole che spesso nella vita di tutti i giorni usiamo in modo intercambiabile, ma non lo sono, ed è importante capire la differenza. Il pericolo è la capacità intrinseca di qualcosa di causare un danno. Il rischio è la probabilità che questo danno in una situazione reale effettivamente si verifichi. Esempio, uno squalo, così come una tigre, è un animale pericoloso. Intrinsecamente è in grado di causare dei danni. Ma quello che è importante sapere non è tanto il pericolo, ma il rischio, cioè la probabilità che quella gente pericolosa possa causarmi un danno. Se io sto nuotando in mezzo al mare e lì vicino c'è uno squalo, beh, io sto correndo un rischio. Il mio rischio può essere anche elevato. Se io invece osservo lo squalo da un promontorio, e sono molto lontano e non sono neanche in acqua, beh, il rischio è zero. Così come la tigre, la tigre è pericolosa, ma se la osservo e sto fuori dalla gabbia, la tigre è in gabbia, beh, il rischio che corro è molto basso o nullo. La distinzione tra rischio e pericolo è alla base di praticamente tutta la legislazione sugli alimenti, sugli additivi alimentari, sui cosmetici, sui detergenti dell'Unione Europea. La IARC si occupa di capire se c'è un pericolo di cancro nello specifico, mentre la valutazione del rischio è materia per altre agenzie, come per esempio nell'Unione Europea, per l'EFSA e a livello internazionale c'è il GECFA, che dicevo che è un organismo di esperti, in questo caso sugli additivi, dell'OMS e della FAO. Tornando all'aspartame, essendo un additivo alimentare, lo trovate anche con la sigla E951, è stato sottoposto a valutazione, ripetute valutazioni da parte di EFSA, come qualsiasi altro additivo alimentare, sempre prendendo in esame tutti gli studi che sono stati pubblicati su quel particolare additivo, allo scopo di capire in che modo minimizzare i rischi se ci sono e di stabilire, che è quello che ci interessa veramente, una dose massima di consumo giornaliero, per cui noi non abbiamo nessun tipo di aumento di rischio. Dall'esame di questi studi EFSA, ma anche agli altri organismi, hanno stabilito che noi potremmo consumare, senza avere nessun tipo di effetto, 40 mg per ogni chilo di peso corporeo per tutti i giorni della nostra vita. Questa è quella che si chiama la ADI, Acceptable Daily Intake, cioè l'assunzione giornaliera accettabile, che è un valore massimo, ma attenzione che non è da interpretare come un valore di pericolo, per cui se superiamo questa dose, allora oddio c'è un pericolo. In realtà le dosi che iniziano a essere probabilmente pericolose, che possono generare un rischio, sono a volte più di 100 volte superiori, proprio per essere sicuri. Quindi una persona di 60 kg, un adulto per esempio, può consumare 60 x 40 mg, cioè 2,4 g al giorno, senza avere nessun tipo di problema. Questo, come dicevo, è una soglia di sicurezza. In una lattina standard a 330 ml ci sono 87 mg di aspartame, perché ci sono anche altri dolcificanti come la cesulfame K e il ciclamato di sodio. Quindi dovete bere 27 lattine al giorno, per tutti i giorni della vostra vita, per raggiungere quella dose che comunque non dovrebbe avere effetto. Però lasciatemi dire che se vi bevete 27 lattine al giorno di qualsiasi cosa, beh, avete dei problemi che non sono l'aspartame. Per bottiglie come queste che hanno 660 ml, quindi sono due lattine, dobbiamo bercene 13,5. Capite che questa è una quantità che non è umana. Ovviamente la scienza è sempre in evoluzione e l'ultima valutazione dell'EFSA sull'aspartame risale al 2013. Le valutazioni vengono periodicamente aggiornate perché giustamente arrivano dei nuovi studi. Ora EFSA sta esaminando altri dolcificanti come il Neotame. Nel frattempo in questi 10 anni sono stati pubblicati altri studi, altri lavori da scienziati in giro per il mondo di vario tipo sull'aspartame e verranno inclusi nella prossima valutazione di EFSA. E sono stati considerati dalla IARC, ovviamente. Ho guardato le conclusioni di alcuni di questi studi e come i precedenti sono abbastanza inconcludenti, sono spesso in contraddizione tra di loro, ci sono degli studi epidemiologici che però hanno tutta una serie di problemi intrinseci, non possono dimostrare un rapporto di caso ed effetto, ci possono essere dei fattori confondenti, eccetera, eccetera. Ed è per questo che la IARC ha inserito l'aspartame nella classe 2B. Il comitato GECFA dell'OMS, che invece si occupa del rischio, congiuntamente ha valutato come non ci sia motivo di variare quella quantità che vi dicevo giornaliera di 40 mg per chilo di peso corporeo, al di sotto della quale sono sicuri che non ci siano problemi di sorta. Ricordate, rischio e pericolo sono due cose diverse. Ce l'abbiamo fatta. Ricapitolando, gli scienziati studiano se un determinato agente aumenta la probabilità di sviluppare un certo tipo di cancro. Un agente o è cancerogeno o non lo è, non dipende dalla dose, no? Può essere alto e basta, ma se c'è una dose allora è cancerogeno. E no, non è vero che tutte le cose sono cancerogene. L'acqua non è cancerogena, lo zucchero non è cancerogeno, ha nessuna dose. 3. Poiché gli studi su un certo agente non sono sempre chiari, la IARC classifica i sospettati in base a quanto noi siamo sicuri che quell'agente sia effettivamente cancerogeno oppure non lo sia. 4. La IARC non classifica gli agenti cancerogeni in base alla loro pericolosità. 5. La IARC non si occupa di sicurezza, si occupa di pericolo e non di rischio. Non è suo compito stabilire delle dosi accettabili di consumo umano giornaliero, questo è compito di altre agenzie, cioè sei per esempio dell'EFSA in Europa oppure del GECFA, come dicevo, che è un altro braccio dell'OMS insieme alla FAO. Come avete visto, le discussioni sulle sostanze cancerogene sono inestricabilmente legate, intrecciate al concetto di probabilità. Ed è forse per questo che è così difficile parlarne, dato che noi esseri umani mal digeriamo l'idea delle probabilità, ragionare in termini di probabilità e di caso. In più, su questi temi la discussione puramente scientifica sui fatti spesso travalica e improvvisamente diventa una lotta tra fazioni, no? In cui la parte scientifica si perde. Pensate a quello che è successo sugli OGM, sul glifosato, sul nucleare, sulla carne coltivata, sulla farina di insetti, sul cambiamento climatico, no? E l'elenco è lungo e potrei continuare. In più, non è un mistero che le classificazioni dello IARC, così poco intuitive e anche sono un po' che confondono, si prestino molto ad essere utilizzate come strumento di lotta politica, di pressione economica, di scontro tra multinazionali, di battaglia tra attivisti e scienziati, inclusi anche scienziati che fanno gli attivisti. E in tutto questo la scienza passa in secondo piano, purtroppo. Per oggi è tutto e se volete approfondire questi discorsi e tanti altri, questo era solo un pezzo di un capitolo, potete leggere Fa bene o fa male, che è l'ultimo libro che ho pubblicato per Mondadori. Nel frattempo arrivederci sul canale del vostro amichevole Chimico di Quartiere. Ciao!